Ben ritrovati, giro questo video in risposta e anche in ringraziamento a tutti quelli che ultimamente sotto i miei video scrivono ma quando è che fai altri video sulle tue collezioni di giochi di ruolo o su Advanced Dungeons & Dragons eccetera e niente, sì in effetti è un po' che non giro video su Advanced Dungeons & Dragons o comunque sui miei collezioni di giochi di ruolo perché adesso mi sto dedicando principalmente ad altro, la mia campagna Advanced D&D è ferma in attesa dell'uscita del Lobby Shop Dungeon che sta impiegando molto più tempo del previsto ma che si preannuncia veramente fantastico volevo comunque farvi ringraziare coloro che sono rimasti iscritti al canale nonostante non parli più di giochi di ruolo facendovi vedere la mia collezione e cercherò di descrivervi velocemente i pezzi più importanti allora questo è il set Dungeons & Dragons del 74 quindi l'originale Dungeons & Dragons e la reprint di Wizard of the Coast con i tre volumetti base più tutti e quattro supplementi questo è un pezzo veramente magnifico che infatti ho conservato in tonso, non oso nemmeno aprire e poi cosa abbiamo? Abbiamo quest'edizione che è l'edizione di Holmes, di Eric Holmes, mi sembra chi si chiama una riscrittura del regolamento in modo da renderlo comprensibile visto che quello pubblicato che abbiamo visto prima era dedicato ai wargamers quindi era comunque difficilmente comprensibile al vasto pubblico bel pezzo collezionabile perché comunque oltre a questa scatola per questa edizione sono usciti a stato due avventure Keep on the Borderlands quindi la rocca sulle terre di confine e In Search of Unknown e ovvero il modulo B1 quindi con questi vi fate una piccola collezione di Dungeons & Dragons questo è stato pubblicato nel 77 se non erro ok poi abbiamo tutta l'edizione quindi tutto il regolamento di Dungeons & Dragons prima edizione e sono gli Orange Spine cover ok con le copertine di Jack Hesley che sono quelle che mi piacciono di più e di seguito ho il primo box set del Forgotten Reams ma soprattutto il box set del World of Greyhawk di Gary Gygax anche questo è in ottime condizioni è stato uno dei miei pezzi preferiti in assoluto poi qui c'è tutta una serie di avventure non riesco a farvi vedere di Gazetteers anche quelli per Dungeons & Dragons riesco a farvi vedere tutto comunque sono tutte le avventure pubblicate da editrice giochi tutti i Gazzetteers per Dungeons & Dragons edizione Manser quindi quella italiana di editrice giochi i pezzi più particolari vabbè c'è questo che è il primo Master Screen mai uscito più poi ci sono queste avventure che sono le raccolte delle avventure ambientate nel mondo di Gary Hawk di Gary Gygax quindi c'è questo Scorger of the Slave Lords il Temple of Elemental Evil questo è un classico più tutte le avventure del Dragonlance questi Dragonlance Classics sono tre volumi anche questi e in fondo ho le avventure di Ravenloft la prima avventura di Ravenloft e la seconda sempre pubblicati per la prima edizione di Advanced Dungeons & Dragons un pezzo molto particolare è questo ovvero The First Fantasy Campaign di Dave Arnison che descrive la campagna di Blackmoor e anche questi moduli che sono particolarmente difficili da trovare sono i moduli scritti da Dave Arnison per Dungeons & Dragons nel mondo di Blackmoor che altro? una cosa un po' particolare era c'è un modulo per Dungeons & Dragons base adesso non riesco forse è questo ok questo qui Radarrow Black Shield è un modulo per Dungeons & Dragons che utilizza le regole del Battle System che è qua su ok questi sono tutti i manuali di Dungeons & Dragons anzi Advanced Dungeons & Dragons seconda edizione pubblicata in italiano e qua c'è un'altra la parte che non ci stava lì qua in alto abbiamo i miei miti che quattro scatole rossi di Frank Mancer più l'Immortal alcuni dei box set della seconda edizione di Advanced D&D quelli che ritenevo più significativi più il Battle System il Forgotten Reams della seconda edizione in italiano e lo starter set della quinta edizione ma questo è una cosa un po' più recente e cos'altro abbiamo altre cosine un po' profiziose ok qui abbiamo la riedizione di Advanced D&D prima edizione di Wizard of the Coast in questa bella edizione con la copertina similpelle molto molto belle insieme alle regole base e a Nartar Dacana sono state pubblicate anche queste due avventure Against the Slave Lords che sono i moduli della serie A che sono poi gli stessi presenti in questo volume qui ma qui sono stati rieditati mentre qua sono praticamente le avventure originali da torneo più questo modulo qui che si chiama Dungeons of Dread che contiene i moduli della serie S tra cui anche il mitico Tomb of Warlords questi sono questa è l'edizione dell'83 di Dungeons and Dragons ovvero scatola rossa e scatola blu e non ho le versioni scatolate ma la scatola rossa conteneva la rocca sulla terra di confine la scatola blu e il gioco del terrore un po' come l'edizione di Menzer quella mitica poi cosa abbiamo la Russicopedia questa è la raccolta delle regole Dungeons and Dragons base quindi i 4 set di Menzer ma in un unico volume molto bello tutti gli art cover pubblicati per Avance di seconda edizione tutte le avventure scritte da Gary Gygax tra cui quelle ambientate nel mondo di Dice nel Paese delle Meraviglie e World of Greyhawk eccetera gli art book tutti quelli pubblicati dalla PSR altri art book ad esempio c'è questo che è un bustato ma è la Complete Elmore Collection quindi tutti le immagini di Larry Elmore altra roba questi vecchi questi moduli sono molto 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 vecchi molto antichi sono roba fin anni 70 e primi anni 80 sono i primi moduli pubblicati per Advanced D&D tra cui c'è appunto anche Village of Omelette e tutti i volumi di Best of Dragon che consiglio caldamente se volete espandere ulteriormente le regole di Advanced Dance of Dragons prima edizione questo cd è abbastanza raro è la raccolta di tutti i numeri di Dragon in pdf è raro perché è uscito dal commercio subito dopo la pubblicazione perché qualche autore si è lamentato che insomma si stava violando il suo copyright niente per questo video ho finito spero che i fan di Dance of Dragons siano rimasti abbastanza satisfatti ciao e alla prossima ciao